Alisson voto 6 Per la seconda partita consecutiva non subisce quasi nessun tiro verso lo specchio della porta Salvo un'occasione nel finale più simile a un passaggio che a un effettivo tiro Ancora una volta la porta rimane inviolata e il merito è sicuramente anche il suo Karlsdorp voto 6 e mezzo Esordisce ufficialmente in maglia giallorossa con una prestazione molto grintosa ed efficace Inizia con un errore in fase difensiva ma finisce nettamente increscendo Provando anche un bel tiro dalla distanza ben parato dal portiere Fazio voto 6 A parte un contrasto pericoloso con Budimir non soffre praticamente mai la sterile offensiva Rosso-Blu Limitandosi a qualche passaggio con i compagni riuscito sempre con la giusta precisione Hector Moreno voto 6 Gioca la sua seconda partita consecutiva confermando ulteriormente una buona gestione palla Ma ha una velocità di pensiero decisamente da rivedere Nulla di particolarmente preoccupante Ma per giocare ancora di più deve migliorare questa caratteristica Kolalov voto 6 e mezzo Prende un palo incredibile su punizione dimostrandosi pericoloso da qualsiasi angolazione Poi nella ripresa prova molto spesso il cross in mezzo Senza mai trovare la spizzata per il gol del raddoppio Senza dubbio il più intraprendente dei suoi Gonalon voto 6 La maggior parte dei palloni passa sempre tra i suoi piedi E a parte qualche errore di disattenzione riesce sempre a gestirli bene Deve però migliorare nella velocità di pensiero Per non rischiare di perdere brutti palloni in momenti delicati della partita Nengolan voto 5 e mezzo In questa prima parte di stagione sembra che non abbia ancora trovato la giusta collocazione Girovaga al centro sulla fascia portando sempre la giusta dose di fisicità e grinta Ma rispetto allo scorso anno il suo contributo offensivo è peggiorato drasticamente Speriamo ritrovi presto la forma migliore Gerson voto 5 e mezzo Dopo la buona prova con il Chelsea non riesce a ripetersi in campionato Nonostante il ruolo più congeniale ha le sue capacità Gioca con poca convinzione e poca grinta limitandosi a passare la palla al compagno più vicino Senza mai provare la giocata Aspettiamo miglioramenti Perotti voto 6 e mezzo Trova il primo gol stagionale con una conclusione praticamente perfetta Che conferma la sua grande bravura nei tiri dal dischetto Per il resto si diverte a deblare i tenaci difensori rosso-blu Riuscendo spesso ad entrare in aree di rigore con personalità Giacomo voto 6 Nella recensione della partita ho criticato la sua prestazione complessiva Ma rivedendo alcune azioni mi sembra giusto premiarlo con la sufficienza Corre con tanta grinta per tutti i 90 minuti Prendendo una traversa clamorosa e allargando spessi il gioco per i compagni più liberi Cengisunder voto 5 Inizia con alcuni scatti pericolosi ma sono l'unica cosa positiva Di una partita vissuta in anonimato Troppo lontana dalla manovra di gioco della squadra Ovviamente non bisogna caricarlo troppo di responsabilità Però poteva fare qualcosina di più Defrel voto 5 Probabilmente è un voto anche troppo esagerato Ma le due palle perse a pochi minuti dal suo ingresso in campo Mi hanno fatto arrabbiare all'inverosimile Vero che era rientrato da un infortunio Ma questa leggerezza è a dir poco inaccettabile Per chi deve impegnarsi a trovare un posto da titolare Mister Di Francesco voto 6 Cambia ancora ben 6 undicesimi della precedente partita Mettendo in campo una squadra molto dimaneggiata E con alcuni elementi in fase di rodaggio La vittoria è arrivata ma con qualche sofferenza di troppo Da correggere per evitare spiacevoli conseguenze Nelle prossime partite Alla fine il voto che ho deciso di dare alla squadra è un 6 E' una sufficienza stirata per una vittoria tranquilla Ma poco convincente Frutto sia di poca lucidità ma anche di tante riserve in mezzo al campo Che non hanno ancora trovato l'amalgama al 100% Aspettiamo di vedere prestazioni migliori Ma nel frattempo portiamo a casa tre punti importanti Il migliore del crotone per me è stato Simic Al quale ho dato un 6 e mezzo Nonostante la differenza tecnica con gli attacanti giallorossi Riesce a non sfigurare per tutta la partita Chiudendo spesso con anticipi puliti ed efficaci Il peggiore del crotone per me è stato Budimir Al quale ho dato 5 e mezzo Non riesce a risultare determinante per il gioco degli ospiti Provando solo qualche sponda Mal sfruttata dai compagni di squadra Bene ragazzi queste erano le mie pagelle personali di Roma Crotone 1 a 0 Fatemi sapere nei commenti quali voti avreste scelto voi E ovviamente se siete d'accordo con i miei Ci vediamo presto per un altro video Un saluto e sempre forza Roma Ciao ragazzi Ciao ragazzi